. Grande Fratello Vip Anticipazioni, cosa succederà tra Luca e Geremias?. . Geremias Rodriguez e Luca Onestini del GF Vip, la polemica. . Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip Luca e Geremias si chiariranno finalmente? Difatti, Luca è stato accusato dal fratello di Belen Rodriguez di essersi messo d'accordo con Soleil per creare le ultime polemiche, che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico a casa. . Ma cosa è successo tra l'ex tronista del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi e la bella Sorge? Andando nel particolare, tre settimane fa Soleil Sorge è stata sorpresa insieme all'acerrimo rivale di Luca Onestini. . E da quel momento è scoppiata una furiosa bufera. . Difatti, in tanti hanno criticato pesantemente la ex corteggiatrice del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi perché avrebbe mancato di rispetto al fidanzato. . E tra chi l'ha criticata furiosamente c'è stato anche il fratello del concorrente del GF Vip, il quale è entrato nella casa più spiata dagli italiani lunedì scorso per rivelargli il tutto. . A quel punto Luca è scoppiato a piangere, dichiarando oltretutto la fine della sua relazione. . Finita qua? Nemmeno per idea perché Cecilia e Geremias Rodriguez, giorni dopo, hanno rivelato che, prima di partecipare al grande fratello Vip, una persona affidata avrebbe detto loro che Luca e Soleil si sarebbero lasciati, insinuando che si sarebbero messi d'accordo per ottenere maggiore popolarità e visibilità. . Sarà davvero così? Tuttavia, negli ultimi giorni, molti fan del reality show Vip condotto da Ilari Blasi hanno iniziato a scrivere su social, che loro si sarebbero messi d'accordo per far passare male Luca davanti agli spettatori da casa. . Il motivo?. . Grande fratello Vip, Geremias Rodriguez contro Luca Onestini. . Molti telespettatori sono venuti a conoscenza che Cecilia Rodriguez, il fidanzato Francesco Monte e Luca Onestini erano nella stessa agenzia. . Ma quest'ultimo, finito il contratto, è passato a un'agenzia concorrente. . Per questo motivo molti hanno pensato che questa clamorosa rivelazione fatta da Cecilia e Geremias Rodriguez possa invece nascondere altri clamorosi retroscena. . E sono in tanti a credere che verrà fatta luce su questa intricata faccenda domani sera nella prossima puntata del GF Vip, magari con un bel confronto. . I tre verranno invitati dalla conduttrice di Origini Romane a fare chiarezza su questa situazione? Ma questo potrebbe non essere l'unico confronto per l'extronista di Uomini e Donne. . . Difatti, sono tanti supporter del reality Vip a pensare che potrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani Soleil, la quale potrebbe finalmente rivelare la sua verità al fidanzato. . Andrà davvero così? Intanto, in attesa di scoprire se entrerà o meno nella dimora di Effina, è certo che entreranno ben tre nuovi concorrenti Vip, Raffaello Tonon, la ex naufraga dell'Isola dei famosi Carmen Russo e, Dulcis in fundo, l'attrice Caterine Stac. . . I tre riusciranno a sbaragliare le carte in tavola? Potrebbero creare nuove dinamiche all'interno della casa? . . .